Mariella Iacono e Angelo Capodicasa sono loro i vincitori della consultazione sulla scelta dei parlamentari del Partito Democratico. Angelo Capodicasa, ex Presidente della Regione, già Vice Ministro della Repubblica, ha raccolto 3.014 preferenze, staccando di circa 250 voti Tonino Moscat. Il 32enne ha sfiorato il colpaccio, arrivando a un passo dal sopravanzare un gigante della politica grigentina come Capodicasa. Se i sondaggi non saranno diametralmente disattesi, cosa alquanto remota, Capodicasa diventerà parlamentare per la terza volta consecutiva. Dietro il deputato originario di Iopolo Giancazio e Tonino Moscat si piazza Daniele Camilleri con 1.300 voti, mentre l'empedoclino Pippo Sinesio raggiunge quota 557. La consultazione femminile viene vinta da Maria Iacono, consigliere comunale a Caltabellotta, che scalza le altre sette concorrenti con 1.449 preferenze. Battuta quindi Angela Galvano, capogruppo dei Democratici al comune di Agrigento, che chiude con poco più di 1.100 voti. Maria Iacono, sempre utilizzando il condizionale, potrebbe diventare il secondo esponente di Caltabellotta al Parlamento nazionale, dopo l'attuale sindaco Calogero Pumilia, che proprio in merito è intervenuto telefonicamente. Porterà la sua passione, la fedeltà ai valori nei quali ha creduto, a questo impegno dal riformista, di donna del centro-sinistra, che avrà la sensibilità, probabilmente quella tipica delle donne, maggiore rispetto a quella degli uomini. Corrisponde perfettamente all'identikit che il partito in campo nazionale ha voluto dare alla propria presenza sul territorio, vale a dire alternare un uomo e una donna, dare all'altra metà del mondo una presenza che può essere una presenza fatta di intelligenza, di sensibilità, di maggiore onestà complessiva, intellettuale e non solo, nell'attività politica. Il podio tra le donne è completato da Sabrina Mangione, 1040 voti. A seguire Antonella Maggio, 1027, Giovanna Iacono, 879, Marcella Militello, 642, Filippa Garuana, 330 e Tiziana Russo, con 297 voti. Stravince Mirello Crissafulli a Enna, con 6348 preferenze, con Maria Gaetana Greco, che tra le donne raggiunge 2560 consensi. A Ragusa vince Venerina Padua con 1164 voti, a Trapani Nino Papania, mentre a Messina quasi plebiscitario il risultato di Franco Antonio Genovese, che raccogli quasi 20.000 voti. Grandi sorprese a Palermo con i giovani Magda Culotta e Davide Faraone, che surclassano nomi illustri come Sergio Mattarella, Pino Apprendi e Sergio D'Antoni.